la basilica di san marco la sagrada famiglia l'orologio della mecca la grande pagoda di bangkok che cosa hanno in comune questi luoghi chiara pecorelli vi accompagna nel cuore di venezia alla scoperta dei maestri del mosaico la cui competenza risplende ai quattro angoli del mondo da diversi secoli e all'immagine della pittura veneziana del rinascimento il colore al centro dell'arte del mosaico ci sono materiali che nascono dalla terra altri dall'acqua il mosaico nasce dal fuoco per assicurarsi che il colore ottenuto sia fedele a quello desiderato dal cliente vengono regolarmente effettuati dei prelievi da accostare alle tonalità di base l'impasto ancora incandescente viene trasformato in piastre queste si raffreddano lentamente e le tonalità compaiono ottenuto il colore desiderato le piastre sono tagliate manualmente la superficie delle piastre le imperfezioni i colori l'irregolarità delle tessere sono espressione dell'unicità di questa tecnica rari sono i materiali che attraversano i secoli rinnovandosi e modernizzandosi restando fedeli alle loro origini chiara pecorelli vi propone di scoprire nuovamente la bellezza di una lavorazione emblematica dell'eccellenza del made in italy integrandola all'interno di uno scenario di arredamento di interni contemporaneo